Per presentare il primo ospite? Sì, è stato direttore dell'Unità, importante dirigente del Partito Comunista Italiano e Presidente della Camera. Ha attraversato un secolo e ce ne ha portato testimonianza nel suo ultimo libro Volevo la Luna, edito da Einaudi. E qui con noi Pietro Ingrao. Buonasera Presidente. Buonasera. Grazie a me. Grazie a me. Grazie a lei. Grazie di essere venuto a Sira Milano. Eccolo qua. Il Presidente Pietro Ingrao, molto applaudito giustamente dal nostro studio. È uscito da pochissimo infatti questa autobiografia Volevo la Luna, edizione Einaudi per l'appunto, di cui proviamo ad accennare, scusandomi sindora appunto per la inevitabile superficialità che il tempo televisivo costringe, ma a cui davvero vi rimando perché è un viaggio straordinario quello che si può compiere leggendo questa storia, che è una storia di passione, di uomini, di incontri, che è la storia del Presidente Ingrao, ma che è la storia del nostro paese. Intanto è venuto in treno, vero? Sì. Funziona? No, perché sai, uno pensa che non funzionino mai, che siano finti. No, invece ci sono. Ci sono, però. Dio mio, è vero che siamo ridotti un po' male in Italia in questo momento, ma che addirittura non funzionino più i treni. No, ore di ritardo, viaggi apocalittici, no? No, no, non ci sono stati ritardi. Eh, vedi? Eh, vedi. Confortabile. Vedi, da quando c'è Prodi tutto funziona, i treni arriva in orario, no? Per dire, no. Devo fare un applauso a Prodi? No, faccia come vuole. No, vabbè, lo possiamo anche fare. Gli facciamo gli auguri, gli auguri. Ne ha bisogno, secondo lei? Secondo me sì. No, eh? Perché ho detto una cosa stambalosa? No, no, forse ha detto una cosa condivisa. Sì, sì, una cosa abbastanza verosimile. Verosimile, forse. Sì, verosimile. Va bene, venerdì 20 ottobre, tra l'altro, alle 18 a Roma, durante la festa del cinema, ci sarà la proiezione di ossessione, in quell'occasione di Visconti, e in quell'occasione lei riceverà il diploma in orario dell'ex allievo, appunto, del centro sperimentale, l'ex allievo Pietro Ingrao, che frequentò, appunto, il corso di regia nell'anno accademico 35-36, riceverà questo riconoscimento alla festa di Roma, immagino le faccia molto piacere. Ma sì, mi fa molto piacere perché per tutto un periodo della mia prima giovinezza, e prima ancora di intrufolarmi nella politica, diciamo così, beh, la mia grande passione è stata il cinema. E Chaplin continua a essere la sua... Assolutamente, in cima a tutti. In cima a tutti. In cima a tutti. Se vuole, le posso citare anche il pezzo di Chaplin, che per me è proprio da ritagliare... È un grande piacere. Si ricorda... No, qualunque cosa, no, perché non faccio pure le figure, però se lo ricordi lei... No, 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 quel film in cui Chaplin aiuta la ragazza che è cieca, no? Poi va in Europa, ritorna, guarisce, e la ragazza apre un negozio di fiori stupendo. E mentre sta lì riordinando i suoi fiori compare da una strada Chaplin, Charlotte, proprio nelle sue vesti integrali, proprio gli abiti suoi, e a un certo momento guarda curioso quella ragazza che lui ha aiutato ad andarsi a curare in Europa. E la ragazza resta sorpresa di questo sguardo, di questo vagabondo di cui non sa nulla, eccetera, eccetera. La ragazza era cieca quindi non l'aveva riconosciuto. Sì, molto bello. Lo guarda a lungo, senza pronunciare parola, poi dice tu, sei tu, perché l'ha riconosciuto. E c'è un gesto di Chaplin che io lo metterei proprio in un'icona, perché c'è Chaplin che senza pronunciare parola muove lentamente la testa e gli fa segno di sì, che è lui. Secondo me è un passaggio di cinema che se lei nelle sue trasmissioni ogni giorno prima desse quel pezzo di cinema sarebbe... È un consiglio... Tanto volevo dire che anche in questo pezzo di racconto non è affatto male. Terrò in grande considerazione il suo consiglio. E se fra una pubblicità e l'altra avrò un po' di tempo, proverò a fare anche questo. Grazie davvero, ci proverò. Guardi che lei ha fatto una promessa solenne di trovare uno spazio per far vedere, se non ce lo ricorda, mi telefona a me e io le faccio vedere. Tra l'altro il cinema, mentre lei si dedicava al cinema, è nata lì il primo nucleo, diciamo, di cospirazione antifascista. Sì, insomma, anzi, come a dire, le due cose non hanno coinciso, perché l'una ha cacciata l'altra. Io ero stato a lavorare per un anno al centro sperimentale di cinematografia, che era appena solo, a Roma, insieme con un amico carissimo Gianni Puccini, perché ero deciso a fare il regista. Mi piaceva enormemente il cinema, ero convinto di avere qualche talento ed era andato alla prima scuola di cinema che sorse allora in Italia e che era una scuola curiosa perché era messa in piedi e lavorava, aveva la sede a Villa Torlonia, che era la villa del Duce. Sì, dove lui scorazzava, peraltro, dove il Duce scorazzava. Sì, si scorazzava a cavallo. A cavallo. A cavallo. E in quella scuola di cinema era invece venuto, capitato, uno studioso di cinema tedesco, ma di valore universale, Rudolf Arnheim, un ebreo che era fuggito dalla sua patria e che approda a Villa Torlonia. Non è stato fortunatissimo, diciamo, dove, no, andando via, andando via, andando a finire nei giardini del Duce. Però siamo stati fortunatissimi noi. Io, Gianni Puccini, De Santis, Alicata, eccetera, perché Arnheim è stato un grande maestro a noi di storia del cinema e direi anche di storia dei grandi eventi che già avevano, diciamo così, scommolto l'Europa. Ecco, ma quel gruppo di amici, di colleghi, di amici, che appunto, insomma, come lei, parlava di cinema, ma passò attraverso quello, aprendo un mondo nuovo, insomma, la politica, l'antifascismo, così contiguo fisicamente, voglio dire, al Duce. Cioè, come poteva coesistere il passaggio a cavallo del Duce in mezzo a voi che stavate creando un nucleo di cospirazione antifascista? Come convivevano insieme queste due cose? Beh, perché noi però adoperavamo molto e ricorrevamo molto al lavoro segreto, come a dire, c'era tutta una parte nostra. Però, scusi, Vittorio Mussolini seguiva da vicino le vostre attività? Vittorio Mussolini andò in America per imprendere delle cose sul cinema, eccetera, eccetera. Ed era il direttore della rivista cinema. Su cui voi... Quella rivista cinema era, le assicuro, che era scritta in gran parte da antifascisti. E Vittorio Mussolini non se ne è accorto? Non se ne è accorto, ma non si è accorso di parecchie cose. Menomale. Menomale. Senta, Presidente, questa è una autobiografia che percorre con grande passione, dovuta anche al fatto che molti racconti sono affidati all'incontro con delle persone, alla sua famiglia, ma insomma è un racconto umano. Percorre questo secolo, il secolo, anzi, il secolo appena passato, che lei descrive come un secolo straordinario ma feroce. Non mi pare però di cogliere ottimismo per il secolo appena iniziato, è così? Beh, è così perché purtroppo questo secolo, che è stato per gran parte il mio secolo, io sto per finire, speriamo di no. Non dica così, abbiamo da parlare di tante cose, abbiamo da cucina, basta, superstizione, sì, scaramanzia. Questo secolo, diciamo così, è stato segnato da grandi, straordinari e terribili conflitti sociali e politici, insomma. Io frequentavo il centro sperimentale di cinematografia, ho fatto per un anno studiato lì e volevo fare il regista, con l'aiuto di Barbaro, che era un critico di grande valore, con un regista che era venuto niente meno che dall'URSS, si chiamava Sciaro, volevo imparare a fare, anzi, fare scuola di film e poi invece no. No, perché certo, gli avvenimenti, la politica... Perché a un certo momento è venuta, adesso io proprio fisserei un punto, la guerra di Spagna, il 36. L'anno determinante per la sua coscienza. Nel luglio del 36 c'è l'invasione di Franco nella Spagna democratica e repubblicana e allora tanti vanno addirittura in Spagna di militanti antifascisti e altri capiscono... insomma, in quel giorno, però, dove era una frase classica, i libri miei sono cambiati sul mio tavolo. E come vi dicevo, infatti la lettura di questo libro, a cui vi rimando con grande affetto proprio, lo faccio davvero di cuore, è un libro intenso e non c'è pagina in cui non si ritrovi questa intensità e grande sincerità, è un libro attraversato dal dubbio di cui parleremo tra poco. Volevo chiederle una cosa, a pagina 20, lei parla della sua giovinezza, si trova a Santa Maria e c'è una sonnambula bendata, a proposito di Chaplin e della cecità, una sonnambula bendata che predice il futuro. Lei però non dice se si era fatto predire il suo futuro. No, io non me lo sono fatto predire, anche perché è una sonnambula un po' che non sembrava molto affidabile, si chiamava infatti la sonnambula della pubblica via. Eh sì, però vedi che bella ricercatezza, che eufemismi delicati. Ovviamente la passione politica, la sua militanza nel partito comunista, la fede addirittura, l'impegno e la fede certo, e i vari cambiamenti che si sono susseguiti. Grandi incontri con i più grandi uomini del nostro secolo. Mi ha incuriosito fra le tante cose. Lei incontra in una dacia russa Mao e dice che a un certo punto Mao, gentile, saluta tutti i presenti prima di cominciare, una relazione molto poco gentile invece subito dopo, e sussurra qualcosa che lei definisce gentile all'orecchio dei presenti. Ma che cosa, siccome parlava in cinese immagino, che cosa gli ha detto? Eh vabbè lei, che cosa vuole che io sapessi il cinese? Non so, ma lei dice, lei dice, ci ha detto qualcosa di gentile, io ho detto chissà che... No, vabbè, ho capito, ho capito, insomma, lei pure quando vede una faccia di uno degli spettatori che ha un'aria ingrugnata, capisce che sta sbagliando tradizione, no? Sì, quello sì, però vede, io per esempio qui... E lei invece si capiva che... C'era anche Kim Il Sung, tra l'altro, in quella riunione? Kim Il Sung? Non ci giuro però. Ma io l'ho incontrato Kim Il Sung. Ecco, ma quando è un incontro fra lei e Kim Il Sung, cioè che cosa, lei si sarà chiesto, che cosa abbiamo in comune io e questo signore? Eh infatti il problema era questo, solo che... Adesso però io non so se lei c'è il tempo disponibile, perché qui... Abbiamo purtroppo, abbiamo una manciata di minuti, però... Eh vabbè, però questo io lo devo raccontare, perché la cosa andò così il mio incontro con Kim Il Sung, ho avuto un incontro con lui, e fu negli anni settanta, Già si era aperta una frattura tra noi e l'Unione Sovietica, Berlinguer teneva ferma questa frattura, è una cosa di cui bisogna assolutamente rendergli merito, e da Mosca invece incalzavano per venire a Rederationem, per costringersi. Certo. Io sono stato chiamato da Berlinguer, allora, e Enrico mi ha detto queste cose, guarda, i sovietici insistono perché io vada a Mosca, perché vogliono avere questo dialogo chiarificatore, pensi che noi ci eravamo schierati contro l'invasione dell'Ungheria, era cominciata tutta una rottura. Se ci vado io, qualsiasi cosa, io dico, furono queste parole esatte, certamente la stampa italiana dirà che io mi sono acquietato, assoggettato ai russi. Per te non lo possono dire, e la ragione perché non lo potevano dire, forse la potete immaginare, non ero così. Allora vai tu e sbrica tu in modo che saltiamo questo scato. Io ho bevito fedelmente, sono andato a Mosca, sono stato bravo perché ho avuto degli incontri con Pono Marioff, che era uno dei capi di questa equipe internazionale che seguiva le vicende di tutti i partiti comunisti del mondo, persona detestabile, a dire la verità. Non lo dicevo allora, ma lo dico adesso. Già allora lo detestavo. Però io fui bravo e riusci a liquidare la partita in poco tempo con un comunicato che non diceva niente, quindi missione assolta. Poi però c'è la coda, perché una delle ragioni con cui avevamo costruito questo viaggio, perché poi si è costruito bene, stava nel fatto che io dopo Mosca sarei andato nella Corea del Nord. Sì, appunto da Kim Il-sung. Da Kim Il-sung. E allora lì ho vissuto delle cose incredibili, insomma, non raccontavo. Prima di tutto sono andato in aereo, in aereo da Mosca lì alla Corea del Nord, è quello se lo sapessi raccontare, perché ho avuto un passaggio dalla notte all'alba, una cosa inaudita, straordinaria, incredibile. Poi sono andato lì alla capitale della Corea e dove sono stato giorni e giorni completamente in ozio, in una villa, mangiando benissimo, però non parlando con nessuno. Però tornando uno non ne può parlare male. Come si sta in Corea bene? Solo prima di partire c'è stato un incontro con il grande capo, che era poi il meglio degli altri. L'Etoile Polaire dell'Humanité. E io sono ritornato da questa. Allora ho conosciuto la Corea del Nord, poi dopo sono stato in Vietnam, l'Asia era entrata nella lotta. Presidente, io volevo fare ancora una domanda, se posso. Che cosa vuol dire oggi essere comunista? Ha ancora un senso questa parola per lei, se non altro? Per me sì, assolutamente. Che cosa significa? Perché lei pensava che io non fossi più comunista. No, glielo chiedo perché sono certo che lei lo sia. Sono certo che lei lo sia. Guarda, però me lo sia in allarme. No, no, io... No, sai, siccome qui non si trova nessuno più, allora chiederle a uno che è certo di essere comunista è l'unico che può rispondere per sapere cosa significa. Lo giuro. Sì. Lo giuro, sono ancora e tuttora comunista, anche se riconosco, e questo si legge anche nel libro, e il libro spiega anche questo, che ne siamo passati attraverso... Mille travagli. No, più dei travagli. Una durissima sconfitta. C'è poco da fare. Non solo è crollata l'URSS, ma è entrato in crisi anche il partito comunista italiano e anche i tentativi disperati di alcuni di noi sono falliti. Quindi è stato un grande evento. Non solo lo stalinismo, io dico il leninismo. La grande invenzione di Lenin, però dopo è venuta la sconfitta. E questo libro vuole essere anche un po' una domanda, e un dubbio sul perché della sconfitta. Professor Omsel, in chiusura, l'ultimissima domanda, abbiamo dieci secondi. Sì, nel suo libro... Non proprio perché lei parla prima di tutti i dubbi che accompagnano... Di tutti i dubbi, di tutti i ripensamenti che emergono dal suo libro. Tanto spirito critico, ma in che cosa lei invece è convinto? Del comunismo? Ecco, sono convinto di un punto molto netto, che c'è una condizione di oppressione del mondo proletario, dei lavoratori proletari. E c'è una classe, che è la classe dei padroni, che tiene sotto le sue scarpe questo grande mondo proletario che è parte fondamentale della vita italiana, ma che poi ha una grande storia anche in Italia. perché qui andiamo alle battaglie combattute anche qui a Milano, ma poi in tutto il nord già alla fine del secolo passato. Quando si dice non adoperare, è un giro di parole. Grazie, Presidente Ingrao. Volevo la luna per sapere se questa luna è stata raggiunta. Leggete Pietro Ingrao, Volevo la luna, è in Audi. Davvero grazie, Presidente. Grazie.